Tecnica Chicago per un ilio in anteriorità, ilio sinistro da trattare, convergo arto inferiore verso il lato sinistro, faccio mettere le mani indietro la nuca con le dita incrociate alla paziente, convergo e busto anch'esso sul lato sinistro, crea una convessità, sollevo la gamba sinistra per posteriorizzare relativamente il ilio, mi posiziono all'esterno della convessità, posiziono la mano, il dorso della mano sullo sterno del paziente, chiedo un'ispirazione, nella fase finale dell'espirazione, crea una torsione con un thrust sul ilio sinistro.